Ciao, sapevi che i testimoni di Geova hanno già insegnato che i dinosauri vivrebbero felici sul pianeta Venere? Ciao, mi chiamo Andrè Conceiro, benvenuto ad Andrè sulla fede. Colui che vi parla è un ex betelita, traduttore di pubblicazioni e interprete del corpo governante durante le sue visite in Brasile. E oggi parleremo di questa sciocchezza, questa follia della torre che ha a che fare con i dinosauri che vivono su Venere. Nella rivista Età dell'Oro, precursore dell'attuale Svegliatevi, del 1 aprile 1931, c'è un articolo intitolato Considera i Cieli, basato sul Salmo 19, 1-6, dove si dice In parte, i cieli dichiarano la gloria di Dio. Il firmamento proclama l'opera delle sue mani. L'articolo passa quindi a considerare il sistema solare in dettaglio, pianeta per pianeta, Incluso l'astro re, il sole e le sue peculiarità, alcune informazioni. Sono addirittura corrette e altre ovviamente no. Ad esempio, l'autore dell'articolo sembra cercare di suggerire l'idea che potrebbe esserci vita sulla Luna a causa dei cambiamenti di dimensione nei suoi crateri. Il testo dice che tutti gli astronomi sono costretti ad ammettere che i crateri sulla Luna sono stati visti crescere e poi diventare molto più piccoli e poi scomparire completamente dalla vista. Solo per riapparire. Inoltre, che piccoli crateri sono stati visti apparire? Ciò che non c'era prima. Fornendo prove che la Luna non è così completamente morta come alcuni hanno supposto. Bene, stranezze lunari a parte, è quando l'articolo inizia a parlare di Venere che troviamo le dichiarazioni altrettanto bizzarre e giurassiche sui dinosauri che vivono felici su Venere. L'articolo passa a descrivere Venere come un pianeta simile alla Terra. Venere prende il nome dalla dea della bellezza e dell'amore. Ha un'atmosfera probabilmente circa due volte la densità della nostra e le temperature prevalenti sarebbero tropicali a causa dello spesso strato di nuvole tra il pianeta e il Sole. Non c'è motivo di supporre che la composizione di Venere differisca da quella della Terra e fino a dove sappiamo, piante e vita animale come la conosciamo potrebbero. Benissimo esistere lì. Bene, andiamo a un colpo di realtà. Invece di un luogo con vegetazione lussureggiante e clima tropicale, Venere è un pianeta con condizioni estreme che lo rendono un ambiente inospitale e completamente diverso dalla Terra. Per fare un esempio, la temperatura media è di 464 gradi centigradi, abbastanza calda da fondere il piombo. La pressione sulla superficie è di 92 bar, che è l'equivalente della pressione a 900 metri di profondità nell'oceano sulla Terra. È una pressione schiacciante. Le nuvole di Venere, vedete, sono composte da goccioline di acido solforico e quindi questo scenario somiglia più all'inferno mitologico di fuoco che a un paradiso lussureggiante. Siamo quindi arrivati alla nostra dichiarazione controversa sui dinosauri. Proprio alla conclusione delle considerazioni su questo pianeta sarà molto chiaro per i lettori del libro Creazione, del giudice Rutherford, che la condizione attuale di Venere è approssimativamente la stessa della Terra prima del diluvio. Ed è significativo che alcuni astronomi abbiano promosso l'idea che animali come i dinosauri, che un tempo vagavano per questo pianeta, ora stiano trovando su Venere un posto felice, in cui vivere? Ok, fermo. Fermo tutto. Una cosa è pensare che possa esserci vita su Venere. Ad essere onesti, fino ad oggi alcuni scienziati postulano che la vita batterica possa sopravvivere alle inospitali condizioni di quel pianeta. Un'altra cosa molto diversa è dire che i dinosauri della Terra ora vivono lì su Venere. Ma aspetta, come ci sono arrivati? Hanno fatto l'autostop su un disco volante. Ehi, 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 ehi. Lo so. Lo so che tutto questo è molto divertente. Tutto questo è molto bizzarro. Ma il nostro canale intende essere un canale giusto ed equilibrato. Quindi, contestualizziamo alcune cose. Numero 1 L'idea che Venere sia abitato da dinosauri ha realmente circolato per un po' tra alcuni scienziati. Diciamo, i più speculativi di quell'epoca. Guarda la spiegazione che l'astronomo Carl Sagan ci dà su questo. Noi ci siamo evoluti sul pianeta Terra e per questo lo consideriamo un luogo congeniale. Ma proprio accanto c'è Venere, fino a poco tempo fa, avvolto nel mistero, ha quasi le stesse dimensioni e massa della Terra. Potrebbe il nostro mondo fratello essere un pianeta con un'estate mite, un po' più caldo della Terra, perché è un po' più vicino al Sole. Ci sono crateri, vulcani, montagne, oceani, vita. La prima persona a guardare Venere attraverso un telescopio fu Galileo nel 1609. Ma tutto ciò che poteva vedere fu un disco senza caratteristiche. E man mano che i telescopi ottici diventavano più grandi, questo era tutto ciò che qualcuno poteva vedere. Un disco senza alcun dettaglio. Venere era evidentemente coperto da uno strato opaco, nuvole spesse, che nascondevano la superficie. Per secoli anche la composizione delle nuvole di Venere era sconosciuta. Voglio dire, potevi uscire, guardare in alto, vedere Venere a occhio nudo, osservare la luce del Sole riflessa sulle nuvole di Venere. Cosa stavi guardando? Di cosa erano fatte le nuvole? Nessuno lo sapeva. Di conseguenza, l'immaginazione ha preso il volo. L'assenza di qualsiasi cosa visibile su Venere ha portato alcuni scienziati e altri a dedurre che la superficie fosse un pantano. Gli argomenti, se possiamo dignificarli con tale frase, erano qualcosa del genere. Non riesco a vedere nulla sulla superficie di Venere perché è coperta da uno spesso strato di nuvole. Bene, di cosa sono fatte le nuvole? Acqua, è chiaro. Quindi, Venere deve avere una quantità enorme di acqua. Così, la superficie deve essere bagnata. Bene, se la superficie è bagnata, probabilmente è un pantano. Se c'è un pantano, ci sono felci. Se ci sono felci, forse ci sono anche dinosauri. Non riuscivi a vedere nulla. Dinosauro. Ma, la verità è che non tutti gli scienziati di quell'epoca giunsero alla stessa conclusione. E così abbiamo Rutherford, l'uomo presumibilmente scelto da Gesù per essere il primo rappresentante dello schiavo fedele e discreto e lui decide di pubblicarlo. Cosa ne pensate? Questa storia di dinosauri su Venere è davvero una sciocchezza? O un errore che può essere contestualizzato e persino perdonato? Rispondete nei commenti. Il canale Andrè sulla fede avverte siamo totalmente a favore della libertà religiosa.